Ciao ragazzi, ciao ragazzi! Oggi video tutorial completo di Gianna di Rino Gaetano, versione strumming facile, cioè strimpellata, come si suol dire, da spiaggia. È una canzone molto facile, molto divertente da suonare, gli accordi con la mano sinistra sono soltanto tre da diteggiare e tra l'altro molto facili, sono l'accordo di La, di Re e di Mi. Per quanto riguarda la mano destra, siccome con la mano sinistra il lavoro è molto facile, ci possiamo concentrare meglio su gestire il plettro e vedremo anche delle cosette interessanti. Prima di cominciare, consueti a visi ai naviganti, metto a disposizione il file pdf con le sigle degli accordi. Basta che venite sul blog lucaricatti.it e ve lo scaricate. Ovviamente se non l'avete fatto vi dovete iscrivere e così avete accesso a questo e a tantissimo altro materiale. Oltretutto, fra le tante cose che ci sono, c'è un file pdf con tutti i principali accordi in prima posizione. Quello io vi consiglio di scaricarlo, stamparlo e tenerlo sempre a portata di mano perché vi aiuta a memorizzare le posizioni degli accordi. Se non l'avete fatto iscrivetevi pure al canale YouTube, qui così quando escono i nuovi video ve li pappate freschi freschi appena sfornati. Ciancino le bande e vediamo come suonare Gianni, Dino, Gaetano, versione Daspia. Gianna, Gianna, Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva parete e fiumi. Gianna, Gianna aveva un poccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Risforzi Ma la notte e la festa è finita e viva la vita. La gente si sveste e comincia un mondo. Un mondo diverso ma fatto di sesso e chi vivrà vedrà. Ma dove vai? Vieni qua, ma che fai? Dove vai con chi ce l'hai? Vieni qua, ma che fai? Dove vai con chi ce l'hai? Di chi sei, ma che vuoi? Dove vai con chi ce l'hai? Tutta la, vieni qua, chi la prende e chi la dà? E così è via discorrendo. Allora questo è un riassuntino della canzone. La canzone appunto è molto semplice, non facile da cantare perché sul ritornello va molto sugli acuti la canzone, quindi nel mio caso io devo abbassare di un'ottava a un certo punto perché sennò non ci riuscirei, per le ragazze risulta sicuramente più facile da cantare, per i maschietti può essere un po' più difficile, ma insomma si usa questo trucco, si abbassa di un'ottava e la strimpellata da spiaggia funziona lo stesso perfettamente. Per quanto riguarda la mano sinistra appunto gli accordi sono soltanto tre, la, re e mi, molto facile, adesso poi li andiamo a vedere nel dettaglio con i disegnini degli accordi, per quanto riguarda la mano destra facciamo questo. Allora a volte io faccio questa cosa, quando torno su, questo è un trucco che uso spesso, non solo io, è un trucco molto comune, di staccare un attimo, fare diciamo una pennata senza l'accordo titeggiato, questo da un senso del ritmo, arricchisce l'andamento ritmico diciamo. Non sempre, non sempre ce lo metto, questa è una cosa che io vi consiglio di fare a sentimento, come piace dire a me, quindi quando vi viene, quando sentite che ci sta bene ce la mettete. Per quanto riguarda le pennate, a me piace molto accentare alcune pennate, perché questa è una canzone che è divertente se è suonata ritmata, quindi Qui Questa pennata verso il basso la accento molto Ok, poi un trucco che uso io, che potete provare a fare anche voi, è quando date questa pennata molto accentata, colpite le corde con il palmo, con la base del palmo della mano. Questo gli dà un senso, un andamento anche stoppato. Cioè l'accent, quindi la pennata è molto accentata, molto forte, ma si blocca subito. Poi ve la faccio vedere da vicino questa cosa, se vi riesce difficile lasciatela perdere, non la fate questa cosa, non c'è problema, la canzone funziona lo stesso. Questo è un trucchetto per renderla ancora più ritmata, ancora più divertente. Poi lo vediamo con l'inquadratura ravvicinata della mano destra, che altro vi volevo dire? Niente, adesso andiamo a vedere esattamente come vanno gestite le pennate e come va gestito il ritmo. E vediamo come gestire la ritmica dell'introduzione. Allora, sostanzialmente abbiamo due cicli da otto tempi l'uno. Cioè, queste sarebbero in realtà due battute da quattro quarti, in cui ogni quarto è suddiviso in ottavi. Ma adesso non stiamo a usare un linguaggio troppo tecnico, cerchiamo di parlare terra-terra, così ci capiamo tutti. Anche se non conosciamo la teoria e la lettura musicale. Allora, sono sostanzialmente come due cicli in cui dobbiamo contare otto tempi. Uno, due, tre, quattro, cin, sei, sette e otto. Per due volte. Nel primo ciclo, sui primi quattro tempi, teniamo l'accordo di La. Nei secondi quattro tempi, quindi cinque, sei, sette e otto, teniamo l'accordo di Re. Invece nel secondo ciclo da otto, teniamo per tutto il tempo l'accordo di Mi. Vediamo come dobbiamo gestire però le pennate. Allora, sul primo ciclo da otto, sui primi quattro tempi, teniamo l'accordo di La e diamo due pennate, sul tempo due e sul tempo tre, tutte e due verso il basso. Quindi facciamo questo. Un, due, tre, qua. Un, due, tre, qua. Sui tempi cinque, sei, sette e otto invece dobbiamo mettere l'accordo di Re. E facciamo due pennate veloci, basso alto, sul tempo cinque. Una pennata verso il basso sul tempo sei e un'altra sul tempo sette. Quindi, cinque, sei, set e otto. Cinque, sei, set e otto. Quindi, da capo il primo ciclo. Un, due, tre, qua. Cinque, sei, set e otto. Ancora. Un, due, tre, qua. Cinque, sei, set e otto. Invece, per quanto riguarda il secondo ciclo da otto, teniamo l'accordo di Mi e facciamo due pennate veloci sul tempo uno, basso alto. Poi, una pennata verso il basso sul due, una sul tre, una sul quattro verso l'alto e una di nuovo sul basso verso il cinque. Quindi, un, due, tre, qua. Cinque, sei, set e otto. Un, due, tre, qua. Cinque, sei, sei, o. Un, due, tre, qua. Cinque, sei, sei, otto. Quindi, da capo sarebbe. Un, due, tre, qua. Cinque, sei, sei, o. Un, due, tre, qua. Cinque, sei, sette, otto. Tutto questo va ripetuto due volte, quindi. Però, alla fine della seconda volta, c'è questo movimento sul basso. Dobbiamo dare tre pennate verso il basso, sui tempi sei, sette, otto, solo sulla corda del Mi, la sesta corda, la corda più bassa. Premendo, la prima pennata è a vuoto, la seconda pennata premendo la sesta corda al secondo tasto e la terza pennata premendo la sesta corda al quarto tasto. Quindi. Quindi. Sarebbe. Un, due, tre, qua. Cinque, sei, set e otto. Quindi tutto da capo sarebbe. Un, due, tre, qua. Cinque, sei, set e otto. Un, due, tre, qua. Cinque, sei, set e otto. Un, due, tre, qua. Cinque, sei, set e otto. Un, due, tre, qua. Cinque, sei, set e otto. Un, due, tre, qua. Un. per quanto riguarda le strofe le pennate sono molto semplici abbiamo sempre i due cicli da 8 e sempre il primo ciclo è diviso in due sui primi quattro tempi suoniamo l'accordo di La sui secondi quattro tempi suoniamo l'accordo di Re e nel secondo ciclo invece per tutti e otto i tempi suoniamo l'accordo di Mi le pennate sono molto semplici perché abbiamo sempre basso alto basso alto tranne poi nel secondo ciclo che saltiamo un tempo adesso lo vediamo quindi sul primo ciclo abbiamo sull'accordo di La basso alto basso alto 1 2 3 4 sulla seconda parte del primo ciclo accordo di Re basso alto basso alto sul secondo ciclo accordo di Mi abbiamo basso alto basso alto saltiamo il tempo 5 e di nuovo alto basso alto quindi sarebbe 1 2 3 4 5 6 6 8 ancora 1 2 3 4 5 6 7 8 quindi tutto quanto sarebbe 1 2 3 4 5 6 6 8 1 2 3 4 5 6 6 8 ancora 1 2 3 4 5 6 6 6 8 1 2 3 4 5 6 6 6 8 ancora 1 2 3 4 5 6 6 6 8 1 2 3 4 5 6 6 6 8 nella parte finale abbiamo sempre la stessa ritmica che abbiamo nelle strofe e nel ritornello è tutto uguale tranne che c'è una piccola introduzione di chitarra super facile che adesso andiamo a vedere come va gestita abbiamo sempre i due cicli da 8 tempi è sempre che il primo ciclo è diviso la prima metà sull'accordo di La la seconda metà sull'accordo di Re e il secondo ciclo è tutto sull'accordo di Mi quindi sempre uguale questa cosa qui per quanto riguarda la prima parte del primo ciclo i primi 4 tempi abbiamo solo una pennata verso il basso sul primo tempo accordo di La 1 2 3 4 la seconda parte uguale ma sull'accordo di Re 5 6 6 O quindi 1 2 3 4 5 6 6 O per quanto riguarda il secondo ciclo tutto sull'accordo di Mi abbiamo una pennata verso il basso sul tempo 1 un'altra verso il basso sul tempo 3 poi abbiamo due pennate veloci basso alto che cominciano a cavallo tra il tempo 4 e il tempo 5 quindi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 poi qui a me piace mettere altre tre pennate basso alto scusa alto basso alto sui tempi 6 7 8 quindi diventa 1 2 3 4 5 6 6 O non ce le devi mettere per forza queste l'importante sono sui tempi 1 3 e quella a cavallo fra 4 e 5 quindi 1 2 3 4 6 e poi se vuoi ci aggiungi 6 6 O 1 2 3 qua se vuoi provare a fare lo stoppato con la mano destra sostanzialmente la tecnica consiste nel fatto che dopo che hai dato la pennata subito con la base del palmo vai a bloccare le corde quindi fai una pennata molto forte ma subito dopo blocchi con il palmo della mano e questa era Gianna di Rino Gaetano spero che questo video tutorial possa essere utile a qualcuno ricordatevi che avete a disposizione il file pdf stampabile con tutte le sigle degli accordi e quindi venite sul blog lucaricatti.it a scaricarvelo se non vi siete iscritti al canale fatelo così vi pappate i nuovi video quando escono freschi freschi appena sfornati e noi ci vediamo alla prossima grazie e ciao